ciao sono ferruccio e con questo breve video vorrei spiegarti come controllare l'estensione verticale degli strati di un muro che hai disegnato all'interno del tuo progetto di revit prima di farlo ti chiedo di mettere un mi piace se hai gradito questo tutorial di condividerlo sui social di iscriverti al canale di attivare la campanella per rimanere aggiornato sulle prossime pubblicazioni come puoi vedere ho già aperto un file di revit già pronto preparato per l'occasione ovviamente all'interno del quale troverai un marciapiede che va ad agganciarsi ad una parete un muro e adesso andiamo a vedere come è fatto questo muro clicco su modifica tipo vado a guardare la struttura nella struttura del muro ti faccio notare che ecco fatto che ci sono alcuni strati che vanno a rappresentare la parte esterna del mio muro che sarebbe quella del capotto ok il capotto però esco da qui non deve arrivare fino alla fondazione si dovrà interrompere dove c'è l'aggancio della soletta del mio marciapiede con la parte portante del muro a questo punto per andare ad agire sugli strati sui singoli strati del mio muro devo ritornare in modifica tipo è molto semplice ci vogliono veramente pochi clic cliccare sulla struttura cambiare la visualizzazione lo faccio qui in basso da pianta a sezione che mi permette di modificare gli attributi del tipo e visto che l'esempio un po troppo alto l'altezza dell'esempio la vado a cambiare in alto a destra e gli metto un metro rispetto ai sei che c'erano precedentemente ora devo andare a influenzare la manipolazione della parte finale del muro quindi clicco su modifica seleziono questa piccola linea faccio uno zoom perché si veda meglio questa piccola linea in fondo la clicco che ha un simbolo di lucchetto significa che è vincolata alle altre cioè si muoverà l'intera parete quando la vado a sbloccare attenzione che è un po difficile far diventare il lucchetto da celeste a giallo nel momento in cui è giallo io clicco e lo posso aprire a questo punto ho tolto il vincolo che fa in maniera che questo strato rimanga collegato agli altri nel momento in cui alzo o abbasso il muro quindi si muoverà autonomamente ma io lo voglio fare anche con questo strato del muro quindi ripeto l'operazione anche qui una volta che sono sicuro di avergli sbloccati entrambi gli do ok ed esco applica ricordatevi di applicare ogni volta e poi gli dare ok non so se notate è cambiata leggermente la grafica della parete non solo vi faccio notare una cosa che qui nelle proprietà ci sono un paio di valori che prima non c'erano perché abbiamo l'offset di base ok quindi rispetto alla pianta di piano terra il muro scende di meno 50 centimetri però questa distanza estensione base prima non c'era fate attenzione a quel dato nel momento in cui io sollevo insieme i due strati che rappresentano il cappotto e li porto convenientemente qui al centro diciamo del mio marciapiede vedete che questo dato distanza estensione base è cambiato quindi per esempio posso mettere 0.40 se ho bisogno di 40 centimetri tutto qua non è stato difficile portare a termine questa operazione vi ricordo però una cosa che non è possibile seleziona il muro modifica tipo struttura modifica non è possibile sbloccare strati non continui contigui quindi io ne sblocco uno vicino all'altro ma per esempio non posso sbloccare quest'ultimo ok e mantenere questo centrale bloccato perché perché quando gli do ok mi dà un messaggio d'errore mi dice gli strati di estensione alla base del muro devono essere adiacenti quindi uno vicino all'altro ok noi avevamo sbloccato i primi due va benissimo così quindi li do chiudi e li do a nulla spero di esserti stato d'aiuto con questo piccolo tutorial ti ricordo ovviamente di mettere mi piace condividere eccetera eccetera ci vediamo per una prossima pubblicazione un prossimo tutorial su revit ciao ciao